Ho solo sentito che hanno deciso l'altro giorno il 31 maggio, brutta giornata. Perché? Perché sotto un periodo di ponte. Secondo alcuni, le regionali del Veneto non partono bene già nella data del voto. Dopo le polemiche per la concomitanza delle elezioni con la donata nazionale alpina del 17 maggio, ora la scelta di spostare tutto al 31, pericolosamente attaccati al ponte del 2 giugno, fa temere che molti siano più tentati da una gita che dal voto. Le polemiche, le divisioni, la confusione nelle alleanze che sta caratterizzando questa prima fase della campagna elettorale, poi rischia di allontanare dalla politica una parte dei cittadini. Lei sta seguendo il dibattito sulle regionali e tutte le candidature? No, attualmente no. 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 No, non siamo informate al momento, no. La gente a Bassano, alle polemiche di partito, preferisce le proposte concrete. Un po' più di autonomia per il Veneto e il lavoro. Sistemare un po' le scuole e dare più spazio, insomma, ai giovani. E soprattutto di aiutare la gente che ha più bisogno e cercare di tirare a fine mese. Beh, è un po' difficile adesso, però le devo dire che Luca Zaia è stato l'unico che ha combinato qualcosa e ha aperto gli ospitali di notte, addirittura. Intanto aiutare la gente che ne ha bisogno, perché eventualmente qua c'è gente che sta morendo di fame e poi la criminalità sta sempre salendo sempre di più. Diciamo forse mantenere buono il livello della sanità, ecco.